Musica Buondi a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo vestitino che io ho deciso di chiamare Fire, ossia fuoco. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato un filato che già conoscete perché è quello della MistiColm Linea Mirage, che è un 100% microfibra e io la trovo adattissima per poter creare delle creazioni sia primaverili ma anche stive, con un punto un po' più forato e infatti questo, come potete vedere, non è né troppo chiuso né troppo forato. Il colore che ho usato io è il numero 7 e vi ricordo che ogni gomitore da 50 grammi misura 125 metri. Questo colore ha le sfumature del Vulcano, ma voglio farvi vedere altre colorazioni che trovate disponibili sul mio sito, che sono questa che ha le sfumature del bianco e del grigio o questa che ha le sfumature del marrone. E devo dire che questa, insieme a quello che ho usato io, per quanto riguarda se uno si abbronza, secondo me questi colori spaccano. Comunque, parliamo invece del quantitativo. Io ho lavorato con l'uncinetto in numero 4 e per realizzare il vestito ho utilizzato 400 grammi. Mi raccomando, se siete una taglia S e volete fare il vestito un po' più lungo, va benissimo sempre 400 grammi, perché dell'ultimo mi è avanzato abbastanza da fare qualche altro giro. Ma se volete fare le maniche lunghe, in quel caso dovete prendere 50 grammi in più. Quindi, taglia M vi occorrono 500 grammi, taglia L 600 grammi. Stessa cosa, se volete fare però le maniche lunghe, dovete andare a prendere almeno un gomitolo in più di quello che vi ho suggerito. Per quanto riguarda la lavorazione, a qua ci divertiamo, perché la lavorazione è in top down. Però, se notate bene, la lavorazione avanti e dietro è diversa dalla lavorazione delle maniche, perché la lavorazione delle maniche è più forata, in quanto sono giri di maglia alta alternata a una catenella, mentre avanti e indietro ho alternato giri di tutte maglia alta a giri di maglia alta alternata a maglia alta con catenella. Questo mi ha permesso di avere la parte del corpo più coprente rispetto alla parte delle maniche. Non vi preoccupate, è semplicissimo comunque realizzarla, sono due giri in top down che vanno sempre realizzati. E poi sarà ancora più facile quando andremo a lavorare solamente il corpo e solamente le maniche. Quindi davvero, anche per le esperte, questo tutorial, questo punto è semplicissimo. È il motivo per cui l'ho scelto. Quindi, come vi ho detto, è un top down, poi potete continuare a lavorare e fare il vestito anche più lungo. Se vi piacciono i vestiti lunghi, questo ve lo consiglio per fare anche quella che ruvano fino al piede. Mi arriva a metà gamba, però potete farlo anche molto più lungo e in quel caso mi raccomando andate a prendere più quantitativo di filato e vi consiglio anche di fare uno spacco laterale in modo tale che la camminata venga più libera. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che questo non è un tubino aderente, ci sono degli aumenti laterali. Questo permette, vedete, al vestito mi va stretto ma neanche tantissimo perché appunto ho fatto degli aumenti. E nel tutorial naturalmente vi spiego come andate a fare, quindi potete allargare il vestito quanto volete, non ci sono problemi. Detto ciao, quindi noi ci vediamo. Ah no, se volete realizzarlo, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sfruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo per il prossimo video tutorial, che sì sì sì, sarà una borsa. Allora, per poter realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Mirage che vi ricordo è un 100% microfibra, quindi perfetta per essere lavorata sia in inverno che metà stagione che in estate perché questa poi non è molto doppia, quindi va benissimo anche secondo me in estate. Io lavorerò con l'uncetto numero 4, ho scelto il colore numero 7 che ha queste splendide sfumature color vulcano. La lavorazione in top down, lavorerò con l'uncetto numero 4 e ho montato 96 catenelle. Mi raccomando, se volete fare lo scolo più largo, questa lavorazione che devo fare si otterrà in quattro lati. Quindi, per una taglia M, se dovete aumentare, aumentate di 8 catenelle. Per una taglia L, aumentate di 16 catenelle. Tenete comunque presente che per ogni lato, quando dovete aumentare, si aumenta di 2 catenelle, quindi per questo sono 2, 4, 6, 8 e 16 perché poi sarebbe 4, 4, 4 e 4. Quindi, se dovete aumentare ancora, dovete aumentare di altre, oltre queste 16, di altre 8 catenelle. Giusto per farvi capire un po'. Detto ciò, possiamo quindi iniziare a fare il nostro primo giro. L'angolo consiste in realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, quello che andrò a fare adesso lo devo fare per tutto il mio lato. Quindi, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto 1 catenella, entro la successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Devo andare a fare un totale di 14 maglie alte, separate da una catenella. Mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti, se ne ha fatte 8 catenelle, deve fare 15 maglie alte. Se invece ha messo 16 catenelle, deve andare a fare un totale di 16 maglie alte. Quindi, io continuo in questa maniera, realizzando 14 maglie alte. Ho fatto le mie 14 maglie alte, quindi sono arrivata all'angolo. Ho fatto la catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, adesso sono nel lato della spalla, quindi devo fare meno maglie alte. Nel mio caso andrò a fare 6 maglie alte, 7 se avete messo 8 catenelle, 8 se avete messo 16 catenelle, quindi salto 2 catenelle, vado a fare la mia prima maglia alta. Quindi una catenella di separazione, salto 1 catenella, 2, 3, 4, 5 e 6. Catenella di separazione, devo andare a fare il mio angolo, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, adesso mi trovo nel lato dietro, quindi devo andare a fare di nuovo 14 maglie alte. Mi raccomando, la maglia alte in più per chi ha messo le catenelle. Quindi adesso continuo a fare 14 maglie alte, e poi vediamo come continuare. Ho fatto le mie 14 maglie alte, quindi adesso devo andare a fare il mio terzo angolo, perché 1 già l'abbiamo iniziato, il secondo abbiamo fatto, quindi questo è il terzo. Vado a fare sempre la catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, e adesso mi ritrovo di nuovo dove ho il mio lato, quindi devo andare a fare 6 maglie alte. Ho terminato anche le mie 14 maglie del lato dietro, quindi andiamo a fare il nostro terzo angolo, quindi salto 2 catenelle e vado a fare 1 maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, catenella di separazione, vado a fare il mio ultimo lato, che sarebbe l'altra spalla, e quindi vado a saltare 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, quindi catenella di separazione, vado a fare un totale di 6 maglie alte, mi raccomando, chi ha messo le catenelle in più deve farne o 7 o 8, quindi 3, 4, 5 e 6, quindi catenella di separazione, si saltano le ultime 2 catenelle, si prende il filo, si rientra nella catenella iniziale, abbiamo fatto la nostra prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella, quindi la nostra prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassa, ho terminato così il primo giro, secondo giro, vado a realizzare, entro dentro con l'uncinetto, prendo il filo, e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto realizzo le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, e adesso vado a fare una maglia alta, sopra la maglia alta del ventaglio del giro precedente, e per tutto il lato, vado a fare una maglia alta all'interno della catenella, e una maglia alta sopra ogni maglia alta, continuo quindi così, fino ad arrivare all'angolo, e vi farò vedere come procedere, avremo una lavorazione diversa per quanto riguarda questo giro, quando avremo la parte avanti e la parte dietro, rispetto alle parti invece, scusate, sto anche nascondendo il filo nel frattempo iniziale, quando andiamo a fare le nostre, invece la lavorazione per le maniche, perché ho intenzione di appunto variare leggermente, facendo la parte dietro e la parte avanti più coprente, quindi continuo a lavorare in questa maniera, fino ad arrivare all'angolo. Sono arrivata al mio secondo angolo, vedete ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, e una maglia alta sopra ogni catenella, e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, vado all'interno del ventaglio e realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, e adesso devo andare a fare la lavorazione che vi ho detto, sarà diversa per il nostro lato della spalla, vado sempre a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio del giro precedente, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione e continuo così per tutto il giro, e per tutto il lato, maglia alta sopra maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra maglia alta, ancora catenella di separazione maglia alta sopra maglia alta e quindi continuo così per tutto il mio lato della spalla vado a terminare il lato della spalla e mi trovo quindi al lato dove ho la parte dietro quindi li andremo a cambiare il punto e andiamo a concludere il lato della spalla andando a fare una maglia alta dove abbiamo la maglia alta del ventaglio entriamo all'interno del ventaglio andiamo a fare maglia alta 2 catenelle rientriamo maglia alta e a questo punto andiamo a fare di nuovo maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio del giro precedente e di nuovo una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra la maglia alta continuiamo così quindi per tutto il nostro lato dietro maglia alta sopra maglia alta maglia alta nella catenella arriverò quindi all'angolo successivo vi farò vedere di nuovo come passare da questa lavorazione a quella per il lato della manica e poi chiuderemo il giro sono arrivata all'angolo quindi come vedete ho fatto di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta ma gli altri non mi archetto e vado a fare maglia alta sopra maglia alta del ventaglio entrò nell'archetto e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta adesso mi trovo nella spalla qui nella manica quindi maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio catenella di separazione maglia alta sopra maglia alta catenella di separazione maglia alta sopra maglia alta e continuo così quindi per tutto il lato della mia manica allora questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro siccome abbiamo una base diversa rispetto alla precedente che amo le catenelle comunque andiamo a chiudere il giro andando a fare sempre maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio e poi entriamo nell'archetto del ventaglio maglia alta catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa ora quindi rifacciamo il primo giro è il primo giro è maglia alta alternata una catenella per tutti i quattro i lati quindi rientro dentro con l'uncinetto vado a fare una maglia bassissima e va da realizzare le mie 3 catenelle vado nella prima vado a fare la catenella di separazione salto la maglia alta del ventaglio del giro precedente entrò nella maglia alta successiva catenella di separazione salto una maglia vado una successiva realizzo una maglia alta catenella di separazione salto una maglia e vado una successiva ora vedete noi qui abbiamo saltato la prima maglia per fare in modo che qui le maglie vengono le maglie alte a terra da una catenella vengono in come sia in perpendicolare no quindi vedete se io invece l'avevi fatta sopra la prima maglia alta come abbiamo fatto un giro precedente non mi sarebbero venute sfalzate quindi non va bene si salta la prima maglia e si procede in questa maniera questo permetterà di avere un aumento della lavorazione dello sprone molto più lenta del solito quindi sicuramente noi gli aumenti il continueremo a fare fino ad arrivare agli scarpi tenete presente che io sono una taglia s e per arrivare agli scarpi sicuramente avrò bisogno di almeno 13 giri se non anche 14 poi naturalmente vi farò sapere quella un'altra cosa che vi posso consigliare e cercare di finire di stare attente quando per un tanto a dare di fare il primo giro che le maglie siano in perpendicolare queste qui alternate una catenella in questa maniera saprete sempre che state lavorando bene quindi non ci sono problemi allora arriviamo alla fine del giro del lato solo perché voglio far vedere come terminare il lato eccoci qui quindi catenella di separazione e salto una maglia vado in una successiva e salto una maglia catenella di separazione salto la maglia del ventaglio vado e tenta il ventaglio e vado a fare maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta catenella di separazione salto una maglia entra una successiva e vado a fare la maglia alta e poi di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta quindi vedete semplicissimo quindi ricordatevi due cose quando lavorate il giro dove la parte avanti e le parti laterali hanno una lavorazione diversa di lavorare sempre la maglia alta sopra il ventaglio del giro precedente mentre quando state lavorando il giro di maglia alta alternata una catenella la maglia del ventaglio del giro precedente e le dovete saltare io continuerò a lavorare naturalmente vi dirò quante cat e quanti giri sono andata a fare quanti motivi ogni motivo sono due giri e poi vedremo come continuare la lavorazione dunque io ho ripetuto i due giri per sette volte quindi ho un totale di 14 giri e per me come larghezza scatti e larghezza manica va più che bene a per una taglia m io direi che dovete andare a fare almeno il motivo due volte in più rispetto a me quindi invece di 7 fatto la 9 però taglia l ripetete il motivo quindi due giri di più rispetto a me quindi fatelo per almeno 11 volte vi ricordo che ogni motivo sono due giri quindi ho fatto il motivo sette volte un totale di 14 giri altra cosa come cercate di finire con il giro dove vi trovate le maglie alte sia avanti che dietro quindi non è un problema se un po più largo sotto piuttosto che più stretto una volta fatto ciò io sono andata a mettere i marcatori entrando negli angoli ho spezzato il filo in questa maniera io inizierò a lavorare direttamente dall'angolo il mio giro quindi io qui o il mio angolo questo è il filo che ho tagliato poi naturalmente li andrò a nascondere e mi aggancio entrando sia nell'angolo dietro che nell'angolo avanti con il mio filo e vado a fare 3 catenelle quindi una due e tre che sono la mia maglia alta tolgo il marcatore così ecco si nota di più e adesso vado a lavorare normalmente il mio giro di catenelle di maglia alta con catenella quindi vado a fare una catenella di separazione salto una maglia quella del ventaglio entrò nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta su datemi sono per presa anche l'altro filo in modo tale da fermarlo maggiormente catenella di separazione salto una maglia vada in successiva vado a fare la mia maglia alta mi raccomando per vedere che state facendo bene la maglia alta singola deve essere in corrispondenza della maglia alta singola dei due giri prima quindi continuo a lavorare così fino ad arrivare al prossimo marcatore quindi a farvi vedere come andare dalla parte avanti alla parte dietro quindi continua a lavorare normalmente il mio primo giro sono arrivata al secondo marcatore vedete mi sono fermata con la maglia alta e la catenella prima del ventaglio vedete questo il mio ventaglio avanti questo il mio ventaglio dietro quindi ho prendo il filo vado direttamente nel ventaglio avanti esco con l'uncinetto del ventaglio dietro prendo il file vado a fare la mia maglia alta a questo punto stacco il mio marcatore e vedete qui ho la mia manica qui invece alla parte lavorata quindi del corpo quindi catenella di separazione salto la prima maglia che quella del ventaglio vado alla seconda e vado a fare la mia maglia alta catenella salto una maglia vada una successiva maglia alta e continuo così quindi per tutto il mio primo giro vi farò vedere naturalmente come terminarlo come iniziare poi il secondo giro io non devo fare aumenti però una volta dopo vi faccio vedere vi dico come potete fare degli aumenti se tipo volete che avete abbastanza molto seno oppure volete allargarlo potete farlo o cambiando l'uncinetto quindi dal 4 passiamo a lavorare al 4 e mezzo o anche al 5 oppure vi faccio poi vedere lateralmente come potreste fare allora io sto per terminare il giro ho fatto la maglia alta e la catenella entro direttamente nella terza catenella che credeva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima ho terminato così il mio giro e per andare a fare il secondo giro semplicemente andremo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta dove o la maglia alta e continuiamo a lavorare così quindi i nostri due giri ora vi dicevo per poter fare degli aumenti quando fate il giro di maglia alta alternata una catenella in corrispondenza della maglia alta laterale quindi questa è questa qui quando vi trovate nella stessa linea andate a fare una maglia alta catenella di separazione rientrate un'altra maglia alta questo vi permetterà di fare appunto un aumento ma poi di trovarvi con la lavorazione che stiamo facendo quindi io adesso continuerò a lavorare se farò degli aumenti vi farò sapere anche perché sono ancora indecisa se fare una maglia una maxi maglia un vestito vediamo man mano che procede quindi sicuramente se devo andare a fare un vestito qualche aumento sotto lo dovrà andare a fare perché non se devo fare un vestito non lo voglio comunque troppo attellato quindi continuiamo a lavorare vi farò sapere quindi se ho fatto oppure no degli aumenti e naturalmente a quanti giri ho fatto gli aumenti poi una volta terminato il corpo andremo a fare le maniche Allora io ho terminato il vestito il corpo del vestito e ho ripetuto i due giri per 29 volte ho fatto soltanto due aumenti uno al dodicesimo motivo quindi quando iniziato a fare il dodicesimo motivo ho fatto un aumento e l'altro a diciassettesimo motivo quindi quando ho fatto il primo giro del dodicesimo motivo e il primo giro del diciassettesimo giro sono andata a fare gli aumenti per fare gli aumenti io ho fatto in questa maniera in corrispondenza della maglia alta ai lati quindi sia da questo lato che da quest'altro lato sono andata a fare e ve lo faccio vedere ecco qui usate un attimo voglio farvelo vedere bene ma è semplicissimo quindi vedete nella maglia alta in corrispondenza quindi maglia alta a tenere una catenella questa è la maglia alta dove iniziavo e terminavo il giro sono andata a fare 3 maglie alte separate da una catenella e ho fatto questa cosa sia da questo lato Che da quest'altro quindi nella maglia alta in corrispondenza alla striscia di maglia alta che parte da sotto lo scappo sono andata a fare 3 maglie alte separate da una catenella in modo tale da avere appunto l'aumento e naturalmente ho fatto poi la stessa cosa quando sono andata al diciassettesimo giro andando sempre nella maglia alta di corrispondenza quindi ripeto ho fatto soltanto due aumenti perché comunque volevo il vestito aderente non strettissimo ma comunque aderente quindi non sono andata a fare ulteriori aumenti e ho ripetuto i due giri per 2 per 29 scusate per 29 volte e adesso possiamo andare a far vedere come fare la manica per realizzare la nostra manica io utilizzerò sempre l'uncinetto il numero 4 e andremo a fare i giri di maglia alta alternata una catenella quindi non faremo più e il motivo che facciamo prima ma soltanto giri ma gli altri alternato una catenella mi aggancio quindi dovevo messo il marcatore quindi qui mi vado ad agganciare dove ho la maglia alta che mi univa la parte avanti alla parte dietro del corpo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione e vado in questa maniera qui ho il mio archetto di 2 catenelle entro dentro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto la maglia alta del ventaglio e vado direttamente nella maglia alta successiva e poi vado a lavorare normalmente quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta alternata da una catenella continuo così per tutto il giro vi dirò vi farò vedere come terminarlo e come poi iniziare ecco come terminarlo e poi vi dirò quanti giri sono andata a ripetere per tutta la mia manica Allora sto per terminare il giro ho fatto la maglia alta alternata una catenella vado sopra l'ultima maglia alta prima di quella del ventaglio e vado a fare una maglia alta catenella di separazione entro nel l'archetto e vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado a terminare il giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella e poi si ricomincia da capo a fare quindi il nostro giro 3 mai 3 catenelle catenella di separazione e questa volta andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi semplicissimo giro naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere il mio giro Allora ho terminato la manica e io in totale ho fatto 25 gini arriva subito dopo il gomito quindi per me è perfetto adesso vado a fare anche l'altra manica poi deciderò se fare qualche bordino non penso sapete che non sono amante dei bordini però nel frattempo da fare l'altra manica